compagnia durante l'estate, innanzitutto chiamo la nostra capo cuoca Angela poi chiamo, no ma è di passaggio, poi chiamo Samantha poi abbiamo Benedetta poi abbiamo l'aiuto cuoca Grazia ecco grazie a lei i suoi tempi, ma arriva poi abbiamo Maria Cristina, dove è Maria Cristina? sei Maria Cristina? non sembra ma sono in tre seconda mamma, è bene avere delle mamme anche, è una seconda compagnia poi abbiamo il factotum, cioè che è quello che mi risolve un sacco di problemi che è Nina, lei fa di tutto qua se non ci fosse Nina potremmo chiudere e poi Gabriella Gabriella io dico sempre il giorno che saranno 20 famiglie impegnate in parrocchia, li faremo il mondo siamo vicini e un abbraccio di cuore a tutti gli animatori che veramente quest'anno si sono fatti avrei fatto un regalo anche voi, mi avete detto che a settembre mi faccia sentire, facciamo una cosa di bella, però davvero grazie perché siete stati generosi e grandi, grazie di cuore, ancora un applauso grazie a tutti Milma una grande conquista grazie Angela e c'era da qua voglio non fare gli elenchi tutta la memoria ecco, vedete le persone che hanno davvero faticato, che sono contente è fantastico adesso lo spettacolo dei nostri eroi mi raccomando ah, un'ultima notizia simpatica perché la perfezione non è di questo mondo incomincia solo qua la perfezione è dell'altro mondo c'è una piccola notizia che ci invita a prestare attenzione abbiamo avuto due casi due casi di pediculosi ovvero opi d'occhi succede anche quello e quindi controllati i vostri figli io ho il sospetto che possa essere anche un pulmo perché ne usano tantissimo in questa perioda perché magari salendo su un pulmo uno se li prende insomma, controlliamoci tutti io anche mi sono controllato meglio, ok? è doveroso dirlo così ridiamo la perfezione non è di questo mondo bene, resta lo spettacolo dei bambini prego